Filippo, ci hai messo un po' per fare questo gol che però insomma onestamente è da incorniciare stasera. Sì, tanto tempo che non segnavo, mancava tanto, però non ero preoccupato per niente per il gol, ero preoccupato di aiutare la Lazio. Certo che noi lì davanti lavoriamo per segnare, per fare assi, per aiutare la squadra, ma se la squadra sta vincendo è quello che importa. E' il più bello da quando giochi la Lazio? Il gol? Penso di sì, però ho fatto due che mi piacciono tanto, ma l'importante è segnare indipendente se è bello o no. Però un gol così viene perché stai bene anche fisicamente, mentalmente, non nasce per caso un'azione così? Sì, dobbiamo stare dentro la partita, essere più continui, ogni pallone può nascere una cosa del genere, o se è bello o se ti stai attento lì per prendere una palla e fare un gol pure semplice, ma quello è la testa, se stai tranquillo, sono felice, quindi quello è importante. E' un pallone complicato, ma era più facile giocare con Closio e più facile giocare con Immobile? Sono giocatori diversi, ma hanno una velocità incredibile nei 15 metri lì, possiamo scogliere la palla a loro davanti, che si riescono ad arrivare, fanno il movimento, è un po' simile, però sono due giocatori diversi, ma tutti e due sono troppo forti. Ti senti responsabilizzato dopo qualche anno a cercare continuità, adesso ti senti anche un leader della squadra? No, certo, qui siamo una squadra giovane, ma tutti mi danno fiducia di portare pure un po' la squadra, quello è importante per me, mi sento importante nella squadra e se continuiamo così, tutti facendo bene, concentrati su ogni palla, possiamo fare davvero bene. Se continuate così, dove può arrivare la Lazio a fine campionato? Dobbiamo continuare a pensare ogni partita, non possiamo pensare che una vittoria è bassa, dobbiamo pensare già da domani alla prossima di vincere ogni partita con chiunque, possiamo giocare con chiunque e quello è importante, piedi per terra e lavoro. Senti, ma anche la Champions, potete ripetere secondo te la prima stagione di Violi qui alla Lazio, il terzo posto in classifica, è possibile? Sì, tutto è possibile, pure nel calcio tutto è possibile, la squadra che abbiamo, giovani, con disposizione, una squadra che vuole tanto in allenamento, dobbiamo continuare così, piedi per terra e troppo lavoro, lavoro forte e pensiamo a ogni partita che possiamo raggiungere sì. Questa Lazio giovane ti piace, ti ha sorpreso un po', a un certo punto solo Radu e Marchetti praticamente erano gli ultratrentrenni. No, nel calcio ci sta, giocatori giovani ma che hanno pure responsabilità già da quando erano più piccoli, è importante avere la testa, ascoltare i più grandi che loro stanno sempre parlando con noi per stare concentrati sul lavoro, imparare tanto con loro, quello è importante, i giovani qui hanno una testa buona e quello sta facendo la differenza. Cioè sì, il segreto di questa Lazio è l'allenatore, il misto? No, c'è tutto un gruppo che sta sendo importante, ogni compagno ha un'allegria in un allenamento, quello è importante. Certo che il misto sta facendo la differenza perché ogni minuto in allenamento strilla, chiama, fai stare attento lì, quello è importante, non puoi mai, devi sempre avere i piedi per te, pure in allenamento, sapere che pure se hai vinto devi lavorare più forte perché la prossima è ancora più dura e lui sa fare bene quello. Anche Peruzzi gli ha dato qualcosa in più? Certo, certo, Peruzzi, lui con me parla spesso, siamo lì, sta sempre lì con noi, gli aiuta tanto pure il gioco. Senti, ma rispetto all'anno scorso cosa è cambiato maggiormente? Perché hai parlato di un gruppo unito, di uno spogliatoio unito, ecco, cosa c'è di diverso rispetto alla passata stagione? No, pure l'anno scorso eravamo uniti, questo dico la differenza perché hanno giocatori nuovi che sono inseriti bene e hanno fatto già subito un gruppo così forte, l'anno scorso pure, però l'anno scorso abbiamo perso il nostro obiettivo all'inizio stagione, siamo complicati un po' e è andata male. Senti, oggi hai segnato il primo gol, a quante reti vuoi arrivare a fine campionato? Se hai un obiettivo. No, io voglio essere continuo e che la squadra vinca e io possa giocare, aiutare l'Alasio. Por questo non sei un più, l'Alasio 20 sono felice. Grazie.